Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Le parole di Giorgia Meloni sono molto chiare? Le parole sono molto chiare, la situazione è una situazione estremamente preoccupante perché non sappiamo se quello che arriverà a luglio sia la fine di questo shock che è arrivato. Perché il problema è che non c'è la necessità di alzare i tassi, perché magari per arrivare all'obiettivo dell'inflazione al 2% ci può anche stare, ma è la velocità con cui si è fatto. 8 rialzi in 11 mesi dal 2022 strangolano le famiglie, strangolano le imprese e rischia questi rialzi di far sì che l'Italia possa essere il paese più penalizzato in assoluto. Un paese dove sappiamo che il suo tessuto economico e sociale si basa su microimprese che fanno affidamento sui prestiti delle banche, dove persone, famiglie che già sono totalmente inchiodate dai rialzi delle bollette, rialzi energetici, si trovano ad affrontare delle rate che avevano già stipulato e che non hanno la capacità di farlo. Andiamo a bloccare un mercato immobiliare perché nessuno oggi magari si avventerebbe ad acquistare una casa con questi tassi. Ecco, io credo che debba essere fatta un'analisi anche proprio dalla Lagarde nel dire vediamo quale può essere l'impatto sociale che è devastante e soprattutto non pensare che l'economia europea sia un'unica economia. Cioè noi non possiamo paragonare l'economia italiana con quella tedesca o con quella greca. Ognuno ha delle economie differenti. E queste non vengono considerate. Federico, oggi ho visto che anche su molti editoriali diciamo...